Sui sistemi Windows è possibile ripartire la potenza del nostro processore sulle applicazioni in base alle nostre priorità. Quindi in questo video capiremo come dare una priorità maggiore ad Excel quando andiamo ad utilizzarlo. Vedremo una versione manuale e una automatica per tutti i processi di Excel. Quando capita, quando c'è l'esigenza di questa configurazione? Quando magari abbiamo un PC che non è molto prestazionale, quindi vediamo che utilizziamo Excel, abbiamo tanti software aperti che consumano comunque CPU, e vediamo che la CPU sta al 100%. Oppure abbiamo tantissimi processi e quindi comunque il computer fa fatica a gestirli. Mettendo la priorità su Excel riusciremo a dare maggiore potenza di calcolo sulla parte del software di Excel. Però ovviamente bisogna sempre vedere la situazione a 360. Come facciamo a fare la priorizzazione manuale e istantiana sul file che stiamo utilizzando? Allora facciamo CTRL-SHIFT-ESC così entraremo su gestione attività oppure andiamo in basso sulla barra, facciamo un clic destro, su un punto bianco facciamo gestione attività. Quando si apre questo pannellino basterà andare sulla sinistra e andiamo su dettagli così. Andando su dettagli andiamo a cercare la nostra applicazione. In questo caso ecco che qui c'è ad esempio Excel. Trovato Excel dobbiamo fare clic destro su di esso e qui andiamo su imposta priorità. Qui possiamo dare la priorità di gestione del nostro processore. Tempo reale, alta, superiore normale, normale. Tutte le applicazioni quando vengono lanciate ed eseguite in Windows sono su stato normale. Quindi cambiando questa priorità con qualsiasi altra applicazione possiamo fare questo tipo di cose noi andremo a dare una priorità maggiore a quella specifico processo. Quindi andando a dare superiore normale oppure alta o in tempo reale ci dirà vuoi modificare effettivamente il funzionamento di Excel? Lì diciamo modifica priorità. Da questo momento in poi l'applicazione che noi abbiamo aperto e che abbiamo settato sarà prioritizzata sulla gestione delle risorse che ha a disposizione la CPU. Se invece noi vogliamo applicarla a tutti i file Excel a prescindere senza non dover mai fare questa operazione manuale come facciamo? Allora chiudiamo l'Excel e anche il gestione di attività che non ci serve più. Dobbiamo andare qui su Excel e nello specifico in questo percorso quassù che poi trovate anche in descrizione al video. Prima di fare qualsiasi cosa all'interno di questa cartella del registro di sistema capiamo che il registro di sistema è un posto di Windows dove vengono memorizzate tantissime configurazioni dei nostri software, Windows compreso. Quindi attenzione perché se venite qui e cancellate qualcosa o modificate qualcosa di sbagliato ovviamente rischiate di danneggiare il vostro computer non fisicamente ma a livello software si dannezza. Quindi prima di fare qualsiasi cosa magari andiamo su in cima si aprirà così quando aprite il registro di sistema ma come si fa ad aprire? Lentine in basso facciamo reg edit ok e compare l'editor del registro di sistema facciamo qui date il sì sul pop up che esce e compare praticamente il registro di sistema. Qui ci spostiamo su computer facciamo un file, esporta diamo un nome che vogliamo magari mettiamo sul desktop e facciamo un salva così lui adesso andrà a generare un backup completo del nostro registro di sistema. ma adesso vedete che c'è la rotellina ci starà un po' perché andrà a memorizzare tutto quello che è contenuto del registro di sistema in questo file. Così in qualsiasi momento possiamo andare a ripristinarlo facendo ad esempio un doppio click. Eccolo qua, ha creato questa cosa qui che se io faccio un click destro e faccio apri sul block notice vedete che lui va a generare tantissime cose. Quindi questa cosa qui è tutto il mio backup di sistema ci sono 3 milioni di righe. Se devo tornare indietro per qualsiasi ragione ripeto, basterà fare doppio click sul nostro backup e lui andrà a ripristinare tutto quello che era il registro alla sua origine. Tornando qui, torniamo sul nostro percorso quindi prendo il percorso che mi hanno memorizzato qui sulla destra, me lo metto qua su e l'incollo qui. Arrivo in questa posizione che è la cartella di Excel quindi vedete che qui ci sono altri software potrei fare la stessa cosa anche quelli altri software. Nel nostro caso lavoriamo su Excel quindi qui dobbiamo andare a fare una nuova cartellina una nuova chiave quindi click destro, nuovo, chiave. La chiave lì dobbiamo dare un nome preciso se noi gli diamo questo nome non funzionerà perché poi le configurazioni seguono nomi specifici quindi la dobbiamo chiamare perf option quindi questo nome qua. Trovate sempre anche il nome della cartella che è in descrizione. Fatta questa cartellina clicchiamo su di essa perché qui dobbiamo andare ad inserire un nuovo nome di Word quindi facciamo click desktop sul bianco nuovo, valore di Word a 32 bit dobbiamo darlo a 32 bit perché altrimenti non funziona anche se avete un PC a 64 bit comunque la configurazione va fatta con il 32 bit. Fatta questa cosa noi dobbiamo andare a mettere anche qua un nome ben specifico che è CPU Priority Class quindi diamo questo nome qua. Perfetto fatta questa cosa facciamo un doppio clic su di esso e qui dobbiamo dare un valore che valore andiamo a dare? Vedete che qui ho i miei appunti che mi porto di qua eccoli qua quindi se vogliamo avere il real time gli diamo l'1 se vogliamo il normale è 2 quindi di default lui è sempre su 2 alta gli diamo il 3 bassa gli diamo il 4 superiore normale e inferiore normale abbiamo il 6 e il 5 quindi se io voglio dare l'alta o il real time oppure superiore normale gioco con l'1 il 3 oppure il 6 se voglio tornare a quello normale ci metto il 2 quindi in questo caso vado semplicemente a metterli superiore normale gli do il 6 Excel avrà una priorità maggiore qualsiasi file non andremo ad aprire di Excel avrà una priorità maggiore rispetto agli altri software ripeto possiamo farlo su tutti i software però se lo facciamo su tanti software poi torniamo al punto di partenza che quando il PC deve decidere come allocare le risorse le darà un po' a tutti quanti se abbiamo uno o due software quei due software andranno in modalità privilegiata se poi vogliamo fare la rollback e tornare indietro perché non vogliamo più dare la priorità ad Excel abbiamo cambiato PC l'abbiamo potenziato abbiamo una macchina virtuale più potente tutto quello che volete basterà semplicemente andare qui prendiamo la cartellina e facciamo un elimina nel momento in cui la eliminiamo oppure mettiamo il 2 che è normal così si apre sempre il normal nel momento in cui la eliminiamo perdiamo la configurazione quindi Excel torna a priorità normale di default gestita dal sistema operativo direi che anche con questo è tutto se il video è stato di vostro gradimento lasciate un bel pollizioni in su iscrivetevi al canale se siete ancora iscritti se invece vorrete sostenermi per darmi una mano a portare avanti tutto quello che sto facendo pensate a stipulare un abbonamento col tasto abbonati che trovate sotto il video ci vediamo al prossimo video a presto ciao